Sostanziale consolidamento sui principali mercati azionari all'interno di una fase interlocutoria e probabilmente in una settimana contraddistinta da pochi dati macro, secondo quello che si può vedere da questo primo inizio di settimana, relativamente poco per i vari spunti. Per il momento finché non scendiamo sotto i seguenti livelli 10.700 per quanto riguarda il DAX, 2845, 850 per Eurostoxx, Piazza Affari, direi 17.100, estensione con qualche preoccupazione 17.080 ma su Piazza Affari c'è una buona tutela, BCE per adesso continua a sorvegliare decentemente i prezzi dei nostri titoli di Stato e mantenerlo spread inalterato, quindi 17.000 può darsi che tenga. Per quanto riguarda l'America, qualche scricchio lì a 2009 ma ha tenuto il prezzo tondo, altrimenti un 2.890 può essere un livello che può, sì, già a 2.910 sarebbe strano, però a 2.900 o 2.895 per SP, però questi sono ancora forti anche se secondo me un po' di fiatone ce l'hanno. Nasdaq che è fortissimo e che sente in maniera bestiale proprio anche tutte le resistenze grafiche, sta adesso un po' arretrando, c'è un po' di arretramento ora che sta aprendo Wall Street, non tanto di sentiment, secondo me Nasdaq finché non lo vediamo abbondantemente di 100 punti sotto, quindi qualche scricchio lì sotto i minimi di stanotte a 9.220 e poi eventualmente con l'abbandono a 9.180 si va poco lontano. Segnale interessante stamattina sui nostri livelli, l'unico segnale che aveva un 5 era Australia contro dollaro. Australia contro dollaro era dato long a 64.71, questi sono i voti dati al sistema di tendenza e non al sistema di intraday. Australia dollaro, simpatico, un 64.71, eccolo qua, partito alle 9 di mattina, arrivata target a 65.15, abbondante, lo stop era 64.41 ma nel momento in cui il segnale è partito non è mai poi tornato sotto il livello per cui si può dire che questa è una buona operazione. Per quanto riguarda l'America, oggi nonostante tutto sarebbe giornata di acquisti ma in debolezza, quindi segnalo i livelli di 2.896, quel supporto da primio scricchio lì o il 9.130, molto lontano dai prezzi attuali per quanto riguarda il Nasdaq e anche un 24.000 che invece sul Dow Jones è un po' più vicino, Nasdaq c'è i supporti lontani di un 2%, SP e Dow Jones ce l'hanno intorno a un meno 1% rispetto ai prezzi attuali. Un altro livello da monitorare è l'area zona di 1.300 per quanto riguarda il Russell, in questo momento anche lui è abbastanza forte, ecco qua, qua sotto, un po' sotto i minimi di stanotte, il mercato ha una buona tenuta, il Russell infatti aveva un acquisto a 1.299,7 che è scattato stamattina, target 1.321 già preso, attenzione, attenzione perché i segnali di acquisto sull'America sono già scattati, 2.896, faccio vedere qua, ecco questo era il 1.32896 di SP, 2.928, SP ha fatto 2.939, Nasdaq il 9.128 non l'ha mai visto, fa un altro lavoro, Dow Jones è il 24.000, l'ha visto, eccolo qua, 24.255, già presi, attenzione, delle resistenze lambeccate, poi ci sta che il mercato voglia ancora salire, ma adesso Wall Street sta prendo con una timidezza che in realtà è una debolezza e che si riflette soprattutto sull'indice europeo, guardate proprio le posizioni diverse di impostazioni sui massimi, sembrano quasi più carini rispetto a quelli del DAX e quelli del DAO, la volatilità è comunque in forte calo, troppo forte secondo me, cioè un calo veramente sensibile, evidente, molto direzionale, assolutamente da non comprare in questo momento contratti di volatilità, almeno così sembra, gold zitto zitto, comunque si mantiene questo 1.690, questo qua, questo 1.700 lo tiene, altri cambi, c'è poi la Nuova Zelanda, qui addirittura c'è un salto di prezzo, non so perché, poi per il resto c'è sempre comunque un euro fortino, devo vedere se adesso ho un errore io sulla mia piattaforma, piuttosto che no, sono i vizi e i problemi anche di lavorare in diretta, bond e obbligazioni, in sell, sembrano dire, anche se l'America tiene un po' meglio, che comunque le borse hanno ancora voglia di rellare, però questo BTP molto debole, non mi piace, potrebbe introdurre una settimana, magari domani, un po' più volatile, buona giornata a tutti!